Ieri il consigliere regionale Nino Marmo ha incontrato il governatore pugliese Michele Emiliano. Secondo fare quadrato, l'associazione che ha organizzato il confronto, l'obiettivo è riportare al centro del dibattito locale, regionale e nazionale il ruolo della politica. Vediamo. Perché incontrare Michele Emiliano? Perché credo che ci siano delle risposte da dare non solo a un territorio ma all'intera regione. E avere la fortuna e l'opportunità di interloquire con il presidente della regione, credo che sia un'occasione ghiotta organizzata da questa associazione da fare quadrato, un'occasione da non lasciarsi perdere. Abbiamo problemi importanti che vanno affrontati, vanno discussi e vanno comunicati ai cittadini. Sullo sfondo c'è scritto ritorno alla politica. Che si intende? Si intende ritornare alla politica nel senso di avere azioni e idee concludenti che risolvano i problemi delle persone. Perché il non risolvere i problemi delle persone significa dare fiato a coloro i quali dicono che la politica non funziona. Quindi il primo esame di coscienza se lo deve fare la politica e deve ritornare ad immaginare, a decidere quello che oggi è l'interesse dei cittadini. I problemi che la regione deve necessariamente affrontare? Abbiamo il problema principale di cui Emiliano è portatore come assessore alla sanità e quello della sanità. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che ci sia bisogno di dare un impulso a quelli che sono i servizi che necessitano oggi in campo sanitario verso i cittadini. Ma oltre questo bisognerà mettere in campo azioni che riportano la nostra regione ad essere attrattiva. Attrattiva di investimenti che possano determinare occupazione, lavoro, sviluppo. Ed essere attrattivi significa essere una regione che non dica sempre no ad ogni iniziativa come la TAP, come l'ILVA e come altre iniziative. Mi riferisco per esempio al porto di Rotterdam che voleva installarsi a Taranto. Io credo che ci siano tanti argomenti da poter sviluppare e che oggi meritano un'attenzione particolare. Uno di questi per esempio è l'axilella. Non si può aspettare otto anni per debellare un batterio che sta uccidendo i nostri olivi. Bisogna muoversi. La politica deve essere concludente.